Salve a tutti, benvenuti a un nuovo video degli Epic Gamers quest'oggi sarò qui da solo perché vorrei presentarvi la nuova rubrica intitolata Vecchie Glorie in cui vi introdurrò al mondo dei retro games e vi presenterò anche alcuni di questi giochi caricherò dei video una volta a settimana anche per lasciare spazio agli altri video che caricheremo noi come primo episodio vi vorrei presentare Galaga 90 Galaga 90 è uscito nell'88, infatti in Giappone è conosciuto come Galaga 88 ma in Occidente, in Europa, in America è conosciuto come Galaga 90 questo gioco è uscito per la console PC Engine conosciuta anche come TurboGrafx-16 è uno sparatutto a scorrimento verticale e il suo gameplay è molto simile al coran più datato, ancora più retro Space Invaders che credo sia uscito nel 77-79 non mi ricordo adesso in questo momento, non mi ricordo la data effettiva dell'uscita di Space Invaders comunque in questo gioco ci saranno molti livelli bonus in cui racimolare punti bonus e devo dire una cosa sul gioco la grafica degli effetti della navetta dei nemici anche i brani che ci sono quei pochi brani che ho sentito perché io personalmente non sono riuscito ad andare molto avanti nel gioco comunque i brani che ci sono mi sono piaciuti molto e soprattutto la grafica del gioco un po' minimale qua su per Wii secondo me è stata un po' riadattata ai tempi moderni e devo dire che è una cosa che mi gusta molto piccola premessa le mie idee sul gioco se voi siete appassionati di sparatutto vecchio stampo e avete un Wii volete scaricare dei giochi tipo questo vi consiglio Galaga 90 oppure anche Gradius forse Gradius lo metterò più avanti anche R-Type caricare video con questi giochi qua esatto se avete voglia di giocare a questi giochi vecchi vecchi, non vecchi, retro vi consiglio Galaga 90 perché è un gioco che spacca ora vi lascio con un'altra piccola clip di Galaga 90 con sottofondo musicale di un brano remixato questo brano remixato è preso da un videogioco ed è stato remixato da un mio amico fa dei remix di brani molto belli devo dire mi sono piaciuti molto vi metterò il link del canale del mio amico sotto nella descrizione così potete andare a vedere le sue creazioni ora vi lascio appunto alla clip metteremo sul nostro canale una recensione di un video nuovo se riusciamo speriamo di riuscire a caricarla ora vi lascio alla clip spero vi piaccia anche il sottofondo musicale alla prossima volta ciao a tutti ciao da Epic Gamers ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.